Carissime amiche, benvenute a un nuovo entusiasmante episodio dedicato alla promessa. Oggi ci immergeremo nelle ultime anticipazioni che rendono la trama ancora più avvincente. Ma prima di addentrarci nei dettagli, vogliamo cogliere l'occasione per augurarvi un meraviglioso fine 2023 e un inizio 2024 ricco di sorprese e emozioni. Nel video precedente, abbiamo svelato alcune delle dinamiche intriganti che caratterizzano gli ultimi sviluppi nella storia della promessa. Alonso, Martina e la complicata rete di relazioni nella tenuta hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, e le anticipazioni promettono ulteriori colpi di scena. Dall'intensa conversazione tra Alonso e Martina ai piani segreti di Lorenzo e la baronessa, passando per i turbamenti familiari di Romulo e Pia, la trama si complica sempre di più. E che dire della gelosia di Jimena nel confronto tra Manuel e l'amica Blanca? Un mix esplosivo di emozioni e intrighi ci attende in questa puntata. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un momento di questa avventura avvincente. Cliccate sul pulsante di iscrizione, attivate la campanella delle notifiche, e unitevi a noi nel commentare e discutere ogni dettaglio della storia della promessa. Grazie per essere con noi in questo viaggio emozionante, e ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nelle anticipazioni e negli enigmi che la trama ci riserva. Nell'episodio di venerdì 29 dicembre della promessa, la tensione si fa palpabile quando Alonso, preoccupato per il prolungato soggiorno di Martina alla promessa, decide di affrontare direttamente la situazione. Chiede a Martina il motivo del suo prolungato soggiorno, ma la giovane donna evita di rispondere con sincerità. Di fronte a questa mancanza di chiarezza, il marchese prende la decisione di chiamare i genitori di Martina per ottenere spiegazioni. Tuttavia, Martina riesce a fermare Alonso proprio mentre sta per compiere questa mossa decisiva. Con coraggio, gli rivela che la soluzione al problema è parlare con suo fratello, Fernando, il padre di Martina. È noto che i due fratelli non hanno avuto contatti per diverso tempo, e questo rende la prospettiva del confronto ancora più delicata. Nonostante l'iniziale titubanza di Alonso, alla fine decide di non chiamare suo fratello, non se la sente di parlare con lui. La sua fiducia nella parola di Martina prevale, e le concede il tempo necessario per rimanere alla promessa quanto desidera. La scena si conclude con una sorta di tregua tra zio e nipote, ma è evidente che ci sono questioni irrisolte che devono essere affrontate. Tuttavia, l'atmosfera serena tra Alonso e Martina viene interrotta dall'arrivo improvviso di Catalina. Fortunatamente, la conversazione tra Martina e Alonso è già terminata, e padre e figlia possono ora affrontare una discussione più privata. Si aprono così le porte a una conversazione intima sulla situazione della tenuta alla promessa e sulle riforme che sono in sospeso. Padre e figlia si confrontano sulle decisioni da prendere per il futuro della tenuta e sulle sfide che devono affrontare insieme. Nel prosieguo della trama, emerge che Alonso si trova di fronte a un dilemma difficile. Spiegare a sua figlia Catalina che Cruz ha costretto Manuel a guidare tutte le future trasformazioni e la ristrutturazione della tenuta, e che, ancor di più, Cruz non vuole affatto che Catalina si occupi di questi cambiamenti. Tuttavia, la mancanza di coraggio di Alonso lo porta a trattenere questa informazione cruciale, lasciando la figlia nell'ignoranza riguardo alle manovre dietro le quinte che influenzeranno il destino della tenuta di famiglia. Nel frattempo, un altro dramma si svolge all'interno della storia. Lope, visibilmente affranto, condivide con Gianna la tragica notizia della morte di Salvador, appresa solo di recente. La scena è pervasa da un'intensa emotività poiché entrambi i personaggi comprendono la profondità della sofferenza che la loro amica Maria Fernandez affronterà quando verrà a conoscenza della perdita dell'amato Salvador. Il momento tocca le corde più sensibili dei due, rivelando la fragilità e la tristezza che li avvolge. Nonostante la gravità della situazione, Lope si dimostra ancora una volta incapace di affrontare direttamente la realtà. Non ha il coraggio sufficiente per comunicare a Maria Fernandez la triste notizia, ed è Gianna che decide di assumere questo difficile compito al suo posto. La sua decisione riflette la forza e la determinazione di Gianna nel sostenere la sua amica in un momento così doloroso. Nel tumulto delle relazioni segrete, la trama si infittisce con il coinvolgimento amoroso tra la baronessa e Lorenzo, rivelato agli spettatori nella puntata precedente. In questo intricato scenario, i due amanti si ritrovano nell'intimità dell'appartamento della baronessa, immersi in un gioco di passione e complicità. La tensione cresce quando Lorenzo decide di svelare il dettagliato piano di avvelenamento concordato con Cruz attraverso l'uso di caffè. La rivelazione getta un'ombra di mistero e pericolo sulla trama, mentre Elisa, consapevole della situazione, concepisce un piano audace. Decide di organizzare una discussione epica proprio davanti ai marchesi, un confronto che ha lo scopo di confondere e ingannare, soprattutto Cruz, che ignora il doppio gioco che si sta svolgendo dietro le quinte. La scena si dipana come un intrigo, con Elisa che, con astuzia e intelligenza, alimenta la confusione tra i personaggi principali. La sua strategia mira a far sì che le apparenze siano fuorvianti, mantenendo la maschera dell'ignoranza mentre manipola la situazione a proprio vantaggio. Nel buio della notte, Martina, incapace di trovare pace, scende nelle cucine alla ricerca di qualcosa da mangiare. Qui, si imbatte in Petra che sta preparando una tisana in previsione del risveglio notturno della baronessa. Martina, desiderosa di mantenere segreta la discussione tra le cuoche avvenuta quel giorno, tenta di convincere Petra a tacere su ciò che è accaduto. Tuttavia, di fronte alla riluttanza di Petra, Martina sorprende tutti minacciandola di svelare un segreto che conosce, uno che suo padre, Don Fernando, le ha confidato. La scena si carica di tensione, rivelando il lato oscuro dei personaggi coinvolti. Martina, di solito riservata, mostra una determinazione insospettata nel proteggere il segreto della discussione. Nel frattempo, Pia, desiderosa di ristabilire un rapporto tra Romulo e Gregorio, chiede a Gregorio di mediare. Romulo, convocato nell'ufficio di Gregorio, si trova coinvolto in una conversazione destinata a chiarire le tensioni familiari e a riappacificare i due fratelli. La trama si intreccia ulteriormente quando Petra, recandosi dalla marchesa per portarle qualcosa da mangiare, inizia a discutere della baronessa di Grazzalema. Sorprendentemente, Petra offre il suo aiuto nell'eliminare la baronessa, mostrando una soddisfazione apparente nel pensare di poter compiere un atto così estremo. Questo sviluppo rivela un lato oscuro e sinistro della personalità di Petra, introducendo nuovi elementi di pericolo e suspense nella storia. Gianna, con il cuore in tumulto, decide finalmente di affrontare la dolorosa missione di raccontare a Maria Fernandez la tragica fine di Salvador. Tuttavia, una volta di fronte all'amica, la difficoltà di condividere la notizia la spinge a girare intorno all'argomento. Incapace di pronunciare le parole che potrebbero infrangere il cuore di Maria Fernandez. Nonostante la buona volontà di Gianna, l'emozione e il dolore fanno barriera, impedendole di rivelare l'amara verità. La scena diventa un momento struggente di compassione e amore, mentre Gianna cerca disperatamente di trovare le parole giuste per condividere il peso della perdita senza infliggere un dolore insopportabile all'amica. Pia, desiderosa di lenire le ferite familiari e promuovere la riconciliazione, ha persuaso Romulo a condividere con Gregorio la verità su quanto accaduto a suo fratello. In seguito a questa richiesta, Gregorio decide di convocare Romulo nel suo ufficio per instaurare un dialogo sincero e cercare di ristabilire un legame di comprensione reciproca. Tuttavia, nell'occasione, Romulo approfitta per confessare a Pia la sua determinazione di lasciare la promessa. La sua decisione getta un'ombra di incertezza sulla tenuta e sui suoi futuri sviluppi. Manuel, nel frattempo, si avvicina a Gianna mentre sta svolgendo i suoi compiti di pulizia. Con sincerità, confessa di aver ascoltato l'intera conversazione con sua moglie Jimena. Manifesta il suo imbarazzo per quanto accaduto nella casa dei suoceri e per le parole di Jimena. Manuel si scusa nuovamente, riconoscendo il peso dei suoi errori. Nonostante ciò, cerca di avvicinarsi a Gianna in un tentativo di ristabilire un collegamento emotivo, cercando di baciarla di nuovo. Tuttavia, questa volta, Gianna si ritrae, evitando il bacio e mantenendo una distanza emotiva che riflette la complessità delle relazioni in gioco. Nel contesto di un clima teso e di emozioni in fermento, Curro si prepara a partire e decide di fare una visita a sua madre, Eugenia, nel sanatorio. Martina, approfittando dell'occasione, gli regala un libro che lei stessa apprezza molto, creando un piccolo gesto di affetto e complicità tra i due. Nonostante l'intesa speciale che si sta sviluppando tra Curro e Martina, l'amore tra di loro deve ancora rivelarsi completamente, generando un'attesa carica di emozioni. Nel buio della notte, Lorenzo e la baronessa danno inizio al loro piano orchestrato, iniziando a litigare furiosamente di fronte a Cruz. Il confronto animato sembra procedere secondo i loro piani, provocando un notevole scompiglio nelle emozioni della Marchesa. Intanto, Pia, nei suoi appartamenti, si sente improvvisamente male, suscitando preoccupazione in candela. Quest'ultima chiama Gianna per chiederle aiuto. La giovane ragazza accorre prontamente con il fonoscopio e inizia ad ascoltare i battiti del bambino nel ventre di Pia. La scoperta è incoraggiante, i battiti fetali risuonano chiaramente. Gianna, con la sua saggezza e conoscenza delle erbe, prescrive a Pia un rimedio naturale per migliorare il suo stato di salute. Tuttavia, suggerisce di consultare un medico nel caso la situazione non migliori con il trattamento prescritto. Nel contesto della tranquilla colazione di Manuele Gimena, il clima si surriscalda quando la coppia si imbarca in una discussione animata. Gimena, come sempre, reclama l'attenzione di Manuele e mostra segni di gelosia verso chiunque si avvicini al marito. La tensione raggiunge il culmine quando improvvisamente fa il suo ingresso Blanca Palomar, un'amica di lunga data di Manuel. I due amici si scambiano un caloroso abbraccio, sottolineando la profondità della loro connessione, ma suscitando al contempo la gelosia e l'irritazione di Gimena. La scena si conclude con questa esplosione di emozioni, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi nella prossima puntata della promessa, prevista in forma lunga per il 2 gennaio. Il confronto tra Manuel, Gimena e Blanca promette di portare a nuovi sviluppi intriganti nella trama, forse svelando ulteriori dinamiche e segreti nascosti. E con questo giungiamo alla fine dell'episodio odierno. Che emozionante tuffo nelle intriganti trame della promessa, pieno di colpi di scena e momenti indelebili. Speriamo che la nostra analisi vi abbia appassionato quanto la storia stessa. A nome di tutto il team del canale, cogliamo l'occasione per augurarvi un sereno fine 2023 e un entusiasmante inizio 2024. Ma l'avventura non finisce qui. Vi invitiamo caldamente a restare connessi e a far parte della nostra comunità. Iscrivetevi al canale cliccando sul pulsante qui sotto, attivate la campanella delle notifiche e unitevi a noi per commentare e discutere ogni sviluppo della trama. Il mondo della promessa è un susseguirsi di sorprese e vogliamo condividere ogni momento di questa avventura con voi. La vostra partecipazione è ciò che rende questa esperienza così speciale. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi oggi. Non vediamo l'ora di rivedervi nel prossimo video e nel frattempo continuate a seguire la promessa che ci riserva sicuramente ulteriori momenti di suspense e passione. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio!